Artigiani, architetti e ingegneri a confronto al centro Candiani di Mestre per discutere delle novità portate dal codice degli appalti appena entrato in vigore. Dario Giordo. Il nuovo codice dei contratti pubblici di appalto è da tre giorni in gazzetta ufficiale. Tante le novità con cui dovranno confrontarsi i professionisti del settore, analizzate a Mestre in un seminario organizzato da Confartigianato Imprese Veneto. Le nuove norme riducono i tempi ma rischiano di mettere in discussione i principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza. Il nostro primo obiettivo è dialogare con le stazioni appaltanti, dialogare con soggetti istituzionali come Itaca, come Lanci, per riuscire a semplificare i controlli in un'ottica di sempre maggiore trasparenza per evitare che ci siano le cosiddette infiltrazioni mafiose che tanto disturbano il nostro sistema. Dobbiamo fare questo salto di qualità. Contemporaneamente le forme di controllo ci devono essere, devono essere pressanti accompagnando la fase di programmazione, progettazione e realizzazione dell'opera pubblica per essere efficaci per consentire che tutto si svolga nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi. Secondo l'Ordine degli Architetti, col nuovo codice il pubblico rischia di cedere il passo al privato. Il mercato della progettazione verrà in ampia parte, quella esecutiva, assegnato alla gestione del mercato privato che chiaramente ha degli obiettivi diversi rispetto alla pubblica amministrazione che persegue l'interesse collettivo in linea di principio mentre invece le imprese correttamente perseguono l'obiettivo del profitto.